Anche quest'anno nella mia collezione di Barbie Holiday Celebration non poteva mancare la nuova Barbie Magia delle Feste e siamo alla trentesima. Oggi è finalmente arrivato il momento di sistemare la mia Barbie Holiday Celebration 2018 qui su nella collezione. Io le ho tutte dalla 1988 alla 2018. Anche quest'anno nella mia collezione. 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 Anche quest'anno nella mia collezione.